ed eccoci per una nuova esplorazione oggi siamo in un'azienda abbandonata che copre tre comuni a partire da paderno noi abbiamo fatto l'ingresso di paderno siamo alla snia viscosa e guardate che bel posticino una bomba ecologica da 20 milioni calcolata 20 milioni di euro un luogo dove si può fare qualunque cosa questo è il lato spaccio ci sono i pusher ci sono i tossicodipendenti e dall'altra parte si versano i rifiuti tossici a pagamento e si smaltiscono bruciandoli una situazione veramente incresciosa che ci chiediamo come possa essere ancora in queste condizioni a circa 15 16 anni dalla chiusura come potete vedere la proprietà è immensa e in questo momento stiamo per salire ai primi piani di questa mega struttura julio questa è un'immensa struttura ok quante entrate uscite ci sono ce ne sono tantissime in questo momento comunque il nostro maggiore problema sarà evitare il contatto diretto con questi personaggi che sappiamo essere aggressivi e armati come dicono tutte le cronache dei giornali delle scorse settimane un saluto a tutti Tullio Trapasso il comitato anti-racket anti-abusivismo city report andiamo avanti naturalmente dietro a francesco ci sono i nostri ragazzi perché la zona è molto pericolosa esatto abbiamo contato almeno una decina di persone tra il nostro arrivo e il nostro ingresso che sono scappati e si sono nascosti nella fitta vegetazione quindi a nostro rischio e pericolo per voi entriamo prego grazie 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 la porta è chiusa naturalmente a Grazie. Dal comitato anti-racket, anti-abusibismo e CT report è tutto, ci rivediamo fra un po'. Non solo, abbiamo scoperto anche un'altra cosa, cioè materiale sottoposto al sequestro il primo di agosto come disposto dalla cultura di Roma. Quindi, vediamo il sequestro, il finale con la di materiale di minacce, proprio in agosto, quindi sarà molto caldo, perché è molto caldo. Vogliamo un'altra bomba pronta per rispondere anche per il posto. Grazie. 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 Vieni. Sto arrivando, non posso. Dai, riprendi qui, va. Prendi questa qui. Vieni. Ti sono ripreso, ma... Tulio, ci devi spiegare che cos'è, devi spiegare che cos'è. Allora, prima di tutto salve a tutti, scusateci se abbiamo la mascherina ma abbiamo qui tonnellate e tonnellate di inquinanti che abbiamo scoperto essere qui sottoposti a sequestro dalla procura di Como dal primo di agosto del 2018, quindi recentissima. Noi ci chiediamo, ma dopo la tragica situazione di via Chiasserini dove diverse persone hanno avuto dei problemi di salute, polmonari eccetera, è possibile che ci sia una discarica a cielo aperto di tonnellate di materiale che non sappiamo cosa può essere? Per essere anche amianti, abbiamo visto dei bidoni, Daniele va inquadrato dei bidoni con dei liquidi, cioè ma i nostri delegati all'ambiente e alla sicurezza pubblica che cosa fanno? In una proprietà soprattutto che è ben vissuta, avete visto gli appartamenti fissi e saltuari, ci sono i pusher, ci sono i zingari, che facciamo? Che risposta date ai cittadini? Questa situazione, questa bomba chimica e tossica deve continuare a esistere? Per ora ve la facciamo vedere, ci aspettiamo delle risposte, un saluto a tutti e seguiteci sui nostri canali social, City Report, Milano Trash, Comitato Antiragat e Antibusivismo, Toglio Trapasso, Daniele Menti, tutti ragazzi, alla prossima, andiamo avanti, non molliamo mai.